Eccoti qua Ezio, perché è così serio? Oggi è il mio compleanno Davvero? Cento di questi giorni, che meraviglia Dici? Sono trascorsi più di dieci anni da che vedi morire mio padre e i miei fratelli Dieci anni a caccia dei responsabili E ora sono così vicino, ma... Non abbastanza da capire il senso di tutto questo Forse tu non te ne accorgi Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio Basta Guarda qui, ho un regalo per il tuo compleanno Il registro di navigazione dell'arsenale, di quando la nave è partita La nave per cibo? Dici davvero? E indovina quando deve tornare? Domani Ezio! Leonardo! Quando sei tornato? Proprio ora, devo parlarti, subito Va bene Divertitevi ragazzi Spero sia importante Oh, lo è, lo è Camminiamo, stammi vicino Le ultime due pagine nel codice Stavo studiando le copie Come ho fatto a non vederlo prima? Mettendole insieme ho capito che i segni sul retro formano delle parole Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante E il profeta? Solo il profeta può aprirla Due frutti dell'Eden Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto, Leonardo Di chi altri posso fidarmi se non di te Zio Mario me ne parlò molto tempo fa Una profezia nascosta nel codice Porta una cripta che racchiude qualcosa di molto potente Grandioso Ma se hai avuto queste pagine dei Barbarigo Allora forse anch'essi sanno della cripta E non è una bella cosa Aspetta Sarà per questo che mandano le navi a Cim Per trovare questo frutto dell'Eden E riportarlo a Venezia Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante Il profeta apparirà Solo il profeta può aprire la cripta Oh mio Dio Quando mio zio me ne parlò Ero troppo giovane e presuntuoso Per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio Ma ora capisco L'omicidio di Mucinigo Dei medici Di mio padre Dei miei fratelli Era tutto parte del suo piano Per trovare la cripta Lo spagnolo Rodrigo Borge La nave salpata da Cipro arriverà domani E io sarò lì ad aspettarla Buona fortuna amico Chiaro che L'ambasciatore portoghese Il consiglio Rammenta a tutti i cittadini Zio Mario Dove lo stanno portando? Non puoi stare Laggiù Non mi pare sano di me La nave salpata Lo spavere L'academia Non mi pare Mi pare L'academia Non mi pare L'academia A tutti i cittadini della Serenissima Repubblica, a causa del gran numero di incidenti e annegamenti nel Canal Grande, un decreto in vigore da subito vieta a chi governa le barche di bere oltre misura. Udite! Verrà imposta a tutti i mercanti di spezie dall'Oriente una tassa per finanziare il mantenimento dell'arsenale. Aluni potrebbero beneficiare dell'esenzione. Fate riferimento al decreto nella sua interezza... Fateci vedere i vostri trucchi, signori! ...con le città costiere degli stati barbareschi. È stato siglato un nuovo accordo con il Bay per garantire la vostra sicurezza. Benone! Distraete! Non troverete pranzi più onesti di questi, amici! Date un'occhiata! Evaluate voi stessi! ...è il tuo volante del culto... ...ce che riesce a fare... ...un concetto... ...coraggio, signore, meno a dependenti... ...vesti bellissima... ...un adulatore, ricchio coltelli... ...non scordatevi della fucina di Bertuccio... ...da tre generazioni offre ai veneziani prodotti di fila, e qualità... ...e qualità... ...e qualità... ...e che ginocchio di Sanremo. ...se che riesce a fare... ...pera lunghe... ...qu'è il supporto di tutti i testi... Non c'è scampo! Se non altro deve aver bevuto vino di qualità. Prezzi incredibili per voi, stimati clienti. Vi domande di ciumifici. Per decreto del Consiglio dei nienti. Unite! Per riposta a tutti i mercati di quale esano rienti. Una tassa per finanziare il mantenimento dell'arsenale. Allora, potrebbero beneficiare delle esenzioni. Fate riferimento di un reto nella sua interezza per sapere se siete tra questi. Ascoltate, cittadini tutti! Saltimbang, qui! Il maestro attende. Non ammetterà errori. Riponetelo con cura, subito. Lo spagnolo è qui! Questo cambia tutto. Posso infiltrarmi in questo gruppo. Prendere il posto del corriere. Mi porteranno dritto da quel figlio di puttana. Prendere il posto della sua interezza per la sua interezza per la sua interezza. Sì, signore. Questo momento è solenne, uomini. State in formazione. Comportatevi bene. Buon dì, tutto bene? Venite, amici. Questa settimana praticamente regalo il mio lavoro. Sì, scontatevi. Sì, scontatevi. Armi, armature, rischietti, coltelli. Non scontatevi della lucida di Verdun. Non scontatevi della riuscita di Verdun. Non scontatevi della riuscita di Verdun. Saranno il doge e i dieci per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Cittadini! Naufragio! La San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è colato a picco con tutta la tronale e l'elepaggio. La San Pellegrino ha dato notizia che il mercante Zanin è coltello alle famiglie delle vittime. Ce l'avete davvero? Vi hanno seguito? Certo che no. Tutto è filato liscio. Abbiamo seguito i vostri ordini esattamente come indicato. La missione a Cipro è stata... Ezio, da quanto tempo... Rodrigo. Ebbene, lui dov'è? Chi? Il tuo profeta. Non sembra sia apparso nessuno, Rodrigo. Quante persone sono morte per questo? Per il contenuto di questo scrigno? E guarda! Non c'è nessuno! Tu sostieni di non credere. Eppure sei venuto. Non lo vedi? Il profeta è già qui. Sono io il profeta. Ora dammi la mela. Vieni a prendertela. Vieni a prendertela. Vieni qui. sharedulosolone. Vieni a prendere. Vieni a prenderla. Grazie. Vieni a prendersi. Vieni a prendersi. Sei venuto da su Dove sono tutti gli altri? Quali altri? Non ne sai proprio nulla, vero? Guardie! Passiamo alla prova col vecchio trucco del capo Colpite! Forza ora! Zio! Niente paura, nipote! Non sei solo! Il volpe! Che ci fai qui? Noi potremmo farti la stessa domanda Noi? Da dopo le domande! Non lasciare che Borja fuga con lo screen! Avanti! Ora, morrete tutti! Fallo fuori, ecco! Vi guardiamo le spalle! Fatemi sotto, godardi! Tutti assieme! La mia bianca ha voglia di altri grani da spaccare! Sei fatelo! Non puoi fermare ciò che è scritto! Ciò che la prima su sconisce sarà mio! Guardate, amici! Il nostro Ezio ormai è un vero guerriero! Acconcia tu! Trovi la colpe e ti fissi la terra Che fassi! Dovremmo farlo più su me! Una battaglia per noi, ragazzi! E' un'altra mano mia! E' un rapio come fa' fare! La guerra dura da molto Molto prima che noi due nascessimo Non è magnifico, Ezio? Tutti riuniti per fracassare insieme Queste testi templari! Notevole, nipote! Hai fatto progressi dall'ultima volta che abbiamo combattuto Magnifico! Dovremmo farlo più spesso! Non serviva che i tuoi fratelli morissero Li ho uccisi giusto per farlo C'è pietà che io sta con il templo Non serviva che i tuoi fratelli 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 Questo è per mio padre Paola È fuggito Ma abbiamo ciò che volevamo No Devo inseguirlo Devi proprio O sei qui per un altro motivo figliolo Teodora Che cosa... Che cosa fate tutti qui? Forse siamo qui per il tuo stesso motivo Vedere apparire il profeta Io sono qui per uccidere lo spagnolo Non mi importa del profeta Non è mai apparso No Ma tu sì Cosa? Era stato predetto l'avvento di un profeta E senza che lo sapessi Tu sei qui Forse eri tu quello che cercavamo fin dall'inizio Come? Voi chi siete? Nicolò di Bernardo dei Machiavelli Sono un assassino Addestrato secondo gli antichi usi Per salvaguardare l'umanità Proprio come te Come tutti noi qui Siete tutti assassini Paola La volpe Nipote è la verità Per anni ti abbiamo guidato Insegnandoti Tutto quel che devi sapere Per far parte del nostro ordine Penso sia il momento È fatta Ma non è ancora finita Vediamoci qui a Dramundo Lasciai a Waki un Mutlach Bale colo un Munchine Queste sono le parole dei nostri antenati Il cuore del nostro credo Quando gli altri seguono ciecamente la verità Ricorda Nulla è reale Quando gli altri si piegano Alla morale o alla legge Ricorda Tutto è lecito Agiamo nell'ombra per servire la luce Siamo assassini Nulla è reale Tutto è lecito È il momento Ezio Oggi non seguiamo più i testi alla lettera Come i nostri antenati Ma il giuramento resta definitivo Sei pronto a unirti a noi? Lo so Farà male solo per un attimo, fratello Come tante cose Benvenuto, Ezio Ora sei uno di noi Vieni C'è molto da fare Alla prossima Grazie a tutti.